16 milioni di euro. Questa è la notevole cifra messa a disposizione per l'area interna Val Chiavenna da destinare ad interventi di sviluppo. Risorse elagite da Regione Lombardia legate alla strategia a aree interne che saranno fondamentali per il rilancio del territorio dal punto di vista imprenditoriale e turistico. I sindaci e i partner del progetto hanno voluto scegliere di destinare una parte importante della cifra, in totale 4.750.000 euro, più di un quarto del totale, alle imprese del territorio. Nello specifico verranno elagite riserve per 3 milioni di euro da destinare all'attrattività turistica, 1.250.000 all'acquisto di macchinari, 500.000 alle start-up di imprese sul bando intraprendo. Inoltre ci sarà la possibilità di indirizzare tali fondi al recupero degli antichi borghi a fini turistici nell'ottica di valorizzare le peculiarità del territorio, il turismo ecosostenibile e il rilancio delle attività tradizionali. Siamo ad un momento importante nell'attuazione del progetto d'area interna della Val Chiavenna. Ora tocca alle imprese attivarsi per cogliere questa grande opportunità. Così Ugo Parolo, sottosecretario della Presidenza con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, politiche per la montagna, macro-regione alpina, ha commentato la buona notizia. Le prime due aree interne di Val Chiavenna e Alta Valtellina, aspirato Parolo, sono state selezionate nell'ambito della strategia nazionale aree interne il 21 novembre 2014. I partner hanno lavorato più velocemente del resto d'Italia, con l'esito di essere stati i primi a vedere approvati, dal Comitato Tecnico Area Interne, i primi due preliminari di strategia. Dispiace per quei soggetti, soprattutto le scuole, che stanno ancora aspettando le risorse statali, ha concluso il sottosecretario. Per le risorse regionali, dall'estate scorsa, con il supporto prezioso della comunità montana e con la piena collaborazione dei comuni, siamo invece in piena fase attuativa e, se indirizzate e utilizzate secondo le attese, contribuiranno in modo fondamentale ai risultati auspicati dalla strategia.